piccola info di servizi prima di cominciare se questo video arriverà a 20.000 mi piace comincerò a fare dei video in cui confronterò tutti 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 i miei microfoni che sono 12 13 14 non so se alcuni sono ancora funzionanti ma sono veramente tanti quindi assicuratevi di mettere mi piace questo video se vorrei fare ad esempio un video mouth sounds con 12 microfoni diversi spero vi piaccia questa idea e vi lascio subito questo video ciao 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 grazie di essere qui 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 come oggi 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 voglio fare un video un po' diverso dal solito e voglio confrontare con voi tre microfoni dico questo è il primo ed è decisamente il meno costoso ho solo pagato una decina di euro ed è il tipico microfono dell'iphone proprio delle cuffiate vecchie dell'iphone non mi sento perché non posso sentire quello di registro quindi io incrocio le dita e spero che mi possiate sentire lo andrò a confrontare con il blu ieri che ho con un microfono un po' via di mezzo cioè classico che si usa per l'smr di qualità media e con il microfono più costoso che ho che è il 3dio che è questo qui per farvi capire il microfono con le orecchie e volevo fare un video un microfono da un euro comunque un microfono da 10 euro versus un microfono da 2000 ma ho pensato che fare tre microfoni fosse più interessante e soprattutto boh se no veniva troppo semplice troppo corto questo è più o meno il microfono che usavo nel 2015 quando è iniziato quindi ditemi chi se lo ricorda lì o chi ha mai visto il mio video in cui utilizzavo appunto delle cuffiette purtroppo non trovo quelle originali che utilizzavo quindi andremo a confrontare diversi drinker con questi tre microfoni diversi diciamo subito ditemi cosa ne pensate anche perchè cominciamo a dimostrare anche perchè non è detto che un microfono solo per i costi di più possa darvi più brevidi ecco magari anche questo microfonino qui può darvi un sacco un sacco un sacco di brevidi non so quanto si sentirà poter ci sono ci sono quali così che un sacco di anche ecco, ecco ecco sottofondo, me ne rendo conto che non piaceranno sicuramente a tutti ok io ho paura che non si senta nulla speriamo davvero lo sto appunto registrando con il cellulare proprio sono attaccate al cellulare che strano sentirsi allora adesso la manche ipace dove me lo metto negli orecchie rimarrò il microfono un pochino così vi faccio ascoltare il suono dei gelatini il suono del tapping il suono del brushing scusate ma qualcosa che mi è dato nell'occhio ok speriamo non fatevi ingannare dal fatto che ho indosso la cuffietta perchè non vi sento non so neanche quanto lo vorrei fare vicino o rontano forse troppo vicino rischia di distorgere il suono quindi andrei a questa distanza vorrei percepirelo una cosa bella però è che ho paura di rumore di stelle ok andiamo un pochino lontano perché sexissimo dovrebbero sentire un poco bene anche perchè la prima mamma sto sussurrando non sto facendo neanche il soft smoke e si dovrebbe sentire come ho fatto delle prove quindi vediamolo sul colantano e avviciniamo e le vincino vi ambiamo e le avviciniamo così al massimo che avete soprattutto sarà pen distordo proviamo un po' di tapping questa è non so neanche dire cos'è è una cosa che usavo quando faccio che si fa è una cosa che uso quando faccio i video di gaming ma la mia che è strano mentre il video mi rompono così proviamo anche questo un po' lontano e avviciniamolo così comunque è abbastanza lontano ma così giusto ditemi se vi piace anche questo tapping che è un po' diverso e un po' vuoto rispetto a quelli che faccio di solito e sto andando a destra e a sinistra ovviamente non perché si sentono a destra e a sinistra figuratevi ma perché non sapendo esattamente dove viene canturato il suono vado un po' davvero tutto cercando di tenere una sovrappatura di più come bella inizia poi e po 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 ok ultime due cose che proviamo il soft spoken lo proverò solo qui giusto per provare ma non sono collegati sul 3D o perché sul 3D il soft spoken non vi piace per niente quindi alzo un pochino al tono della voce perché è giusto un esperimento quindi con questo microfono lo proviamo vi voglio vedere più che altro come lo catture ecco diteli se vi piace il soft spoken con questo microfono non lo so può magari rende molto di più magari è bellissimo non ne ho la più pallidissima idea e spero di non star soffiando eccessivamente sul microfono ultimo brush l'abbiamo l'abbiamo che non penso sarà stato bellissimo però boh, ditemi adesso passiamo al blu yeti, quindi qualità diciamo media qui già ragioniamo meglio questo è il blu yeti dopo ve lo faccio vedere nella sua interezza, oggi ho deciso di utilizzarlo senza cuffia ma si può utilizzare anche con una spugnetta per evitare che sentano tanto le pipi pipi, pipi, pipi queste cose qui però 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 a me comunque piace e mi terrò relativamente distante quindi penso sia ok 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 prima differenza che potete notare oltre che la qualità audio è comunque buona c'è c'è un po' di suono di sottofondo ma ci sarà anche nell'ultimo microfono però comunque notiamo già che il suono è catturato in modo giustamente diverso questo costa circa 100-150 dipende dalle offerte eccetera e a me piace molto il blu yeti e ha diverse opzioni fra cui quella che sto usando adesso quindi quella che vi permette di distinguere il suono da destra a sinistra e anche al centro quindi così non sono né a destra né a sinistra qui sentite la mia mano da una parte e qui sentite la mia mano dall'altra quindi media per me è comunque già qualità buona per l'SMR e questo viene utilizzato tanto anche per i podcast quindi se state pensando di fare un investimento se avete un podcast e state pensando di comprare un microfono se potete fare un investimento del genere il blu yeti li vale comunque è molto buono e si connette al computer altra cosa è medio anche come prezzo perché comprando questo questo microfono potete collegarlo al computer quindi basta avere un computer o all'ipad al al tablet al cellulare insomma e quindi non vi serve un registratore che vi farebbe aumentare i costi quindi per questo dico è un buon microfono anche da qui iniziare anche appunto per fare ASMR questo è il primo microfono che suggerirei se sia il budget è un buonissimo 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 investimento andiamo con il mouth 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 sound a unico a presto a me è ammazzato questo microfono, mi piacciono da matti papi poter con questo ovviamente si possono fare dei trigger che con l'altro avresti via di capare come ad esempio l'inautibor ecco mi piacciono molto i note sounds qui forse più che coltreddio ... ... ... ... ... ok ok questo essendo un microfono vero e proprio riesce a catturare tutta l'essenza, i piccoli suoni che i gelatini fanno e tanti piccoli suoni che i gelatini fanno e quindi Grazie. Direi che non c'è paragone. E' un pazzesco per i suoni genotini. Ok. Passiamo al tapping. Qui in un lavatino è protetto, si sente perfettamente. Il Blue Yeti di Mono ha quattro opzioni diverse. Quindi si può impostare in quattro modalità diverse. Questo è quello appunto destra-sinistra. Però si può appunto adattare anche alla tipologia di video che vuoi girare. O all'utilizzo in generale che vuoi farne se non puoi smr. All'utilizzo in generale. E' sicuramente quindi una buona via di mezzo, ma ad esempio il destra e sinistra non sono definiti. Diciamo che qui il suono è un pochino spostato e anche qui, ma non sono molto definiti ovviamente. Finiamo con il brush, 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 brush. All'utilizzo in generale. Mi piace tantissimo il brush su questo microfono, veramente. Lo trovo forse il migliore insieme al 3D, ma sono molto diversi comunque fra di loro. Vi faccio ascoltare i soft spoken pochissimo, giusto perché possiate paragonarlo. E devo essere sincera a me il soft spoken piace solo se fatto con un microfono non troppo potente. Quindi con questo secondo me ci può stare la con il 3D o no, perché prende troppi suoni e risulta molto 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 forte. Quindi sì, questo era il 3D o no. Questo era, scusate, il blu ieti. Quindi si scrive blu e ieti con la y, y e t i. E ditemi cosa ne pensate, ditemi se è questo il vostro preferito. Passiamo all'ultimo microfono. Eccoci con il terzo e ultimo microfono di oggi. Il 333 dio. Ho detto anche microfono con le orecchie. Il modello costa molto, costa circa 2000 euro. E costa così tanto anche perché fra tutte queste tipologie di microfoni forse le avrete visti già di colore bianco. Questo è il modello più performante, il modello migliore. Quello anche con una maggiore qualità, quindi. Inoltre questo essendo un microfono, uno ha bisogno anche di un registratore. Quindi contateci, quindi aggiungeteci altri 200 euro circa. Insomma, è il microfono più costoso che ho in generale. Però è sicuramente quello con più particolarità. E mi piace tanto, non me ne sono pentita di averlo acquistato. È proprio, è letteralmente un gioiellino. Come potete sentire il suono è cristallino. Riuscite a distinguere tutte le più piccole sfumature della mia voce. Ad esempio, rispetto al fluidi, comunque non aveva questa chiarezza. Il suono non era così chiaro. E come sentirete ci sono anche dei rumori di sottofondo. Ma c'è più probabilità anche di sentire suoni di sottofondo perché la sensibilità di questo microfono è altissima. Sente veramente tutto, tutto, tutto. Quindi se ho fame, se ho mal di pancia, se passa una macchina a due chilometri di distanza. O di due no. Comunque si passa una macchina anche lontana da qui. Sente tutto, sente voci anche a parecchi, parecchi, parecchi metri di distanza. Insomma, è impegnativo. La sua particolarità è anche il fatto che ha, appunto, delle orecchie. il microfono è qui dentro e queste orecchie mi permettono di farvi sentire suoni. Quindi, diciamo, ti permettono di distinguere il suono di quando tocco il lobo dell'orecchio a quando tocco, ad esempio, la parte superficiale più morbida, la parte superiore. quindi il lobo sotto e sopra è magico per me. Vi faccio sentire anche dall'altra parte. Il lobo è parte superiore, quindi questo per fare ovviamente i miei massaggi all'orecchio. È strepitoso. È veramente realistico. Come sentite anche la destra e la sinistra sono molto, molto, molto più distinte. Quindi, nonostante sia un microfono unico, nonostante sia un strumento unico, ha due microfoni e i due microfoni riscono abbastanza di suonare il suono da una parte o dall'altra. Quindi praticamente sentirete solo il suono da una parte adesso. E dall'altro dopo, inoltre io ho trovato questo clusopo whispering. Ma, passiamo subito ai mouth sounds. Trorda dirobe trovo ad andare anche un po' distante, un po' vicino. no mi raccomando ditemi quale preferite forse io preferisco la via di mezza cioè i bluietti anche se questo suono è evidentemente più pulito ok gelatini anche qui la differenza è incredibile si sente ogni singola sfumatura del suono infatti penso sia meglio tenerli un po' di istanti non è vero 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 questo microfono mi piace utilizzarlo con suoni più delicati perché ovviamente i suoni più delicati vengono percepiti magari da questo microfono bene ma da tutti gli altri non tanto bene o non vengono percepiti affatto invece questo veramente è più sensibile direi di un orecchio umano o almeno del mio quindi fa percepire dei suoni tipo questo questo è il suono del mio dito contro la mia unghia che se metto questo suono di fianco al mio orecchio non percepisco e contate che è a livello 5 su 10 livelli quindi potrebbe essere molto più sensibile è un modo purtroppo esagerato non mi dispiace 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 è molto particolare ed è molto più modulabile rispetto al brushing sono sempre pluietti per non parlare ovviamente del microfonino delle cuffie non mi dispiace 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 non mi dispiace